La fiducia in Mario Draghi certamente c'è in Italia come a Bruxelles. Sono certo che il suo governo, quando avrà il sostegno e la fiducia del Parlamento, sarà un governo capace di dimostrare non solo un impegno europeista, ma anche una grande efficienza nel cogliere questa occasione storica che abbiamo. I tempi sono tempi che decide la politica italiana. È chiaro che a Bruxelles si spera sempre di avere governi in carica, ma non decidiamo certamente noi i tempi delle crisi che avvengono nei singoli paesi e in Italia in particolare.